Buongiorno a tutti e a tutte, ai miei ragazzi, ai miei bambini, alle loro famiglie. È un breve messaggio in questi giorni in cui si siamo trovati in una situazione un po' particolare. Da un giorno all'altro ci hanno chiuso le scuole, non per il nostro beneamato carnevale, ma bensì per questo coronavirus. Non sappiamo quanto questo problema andrà avanti, l'ordinanza parla del primo febbraio, ma in realtà potrebbe andare ancora avanti. Cosa fanno quindi i nostri bimbi in questo momento? Mi rivolgo soprattutto a loro, sono a casa, si annoiano e noi vogliamo attivarci assieme a tutto il corpo docente per evitare che si annoiano troppo, che non perdano troppe giorni di lezione. Quindi stiamo pensando a dei momenti di incontro attraverso internet, quindi attraverso i video, come quello che vi sto facendo e che ho voluto fare, bambini, anche per farvi vedere che si può fare. Questo è un video registrato, ma in realtà possiamo fare anche video direttamente online, quindi in diretta, dove voi potete anche fare delle domande a chi? Alle vostre maestre, ai vostri maestri, loro vi possono leggere qualcosa, potete parlare con loro, vi possono spiegare quello che sta succedendo. Sul sito internet abbiamo messo delle, metteremo, non abbiamo ancora messo perché ci stiamo attivando, speriamo di essere pronti per lunedì sempre che questa ordinanza continui nel tempo, perché se si rientra a scuola chiaramente tutto questo finisce lì. Che cosa vogliamo fare? Abbiamo messo, metteremo nel nostro sito, delle piccole lezioni che voi potrete vedere, dei piccoli video che vi aiuteranno più che altro a non annoiarvi e a mantenere un po' viva quella che è la nostra scuola. Vi comunicheremo tutto al più presto. Oggi abbiamo fatto un primo incontro con alcune maestre, con lo staff della dirigenza, ci stiamo attivando nella scuola superiore, nella scuola secondaria del primo grado, quindi più grandi, prima, seconda e terza secondaria di primo grado. In realtà le professoresse e i professori si erano già attivati con delle piattaforme ad hoc. Per i più piccoli la cosa è un po' più difficile. Per l'infanzia stiamo pensando a fare degli incontri online con le maestre, di modo che i bambini anche tramite il vostro telefonino si possano collegare, vedere le loro maestre che li rasserenano, gli raccontano qualche favoletta, insomma roba diciamo molto semplice, ma per farvi vedere che ci siamo, anche perché i bambini devono capire un po' quello che sta succedendo senza mai preoccuparsi o andare in ansia, perché poi non c'è nulla di preoccupante. Un'altra cosa invece per la primaria, dove invece pensiamo di fare un pochettino di più avanzato, sempre da un punto di vista ludico didattico, cioè non sarà una vera e propria lezione, immaginate questo non è possibile, i nostri figli stanno a scuola 6-7 ore e quindi è chiaro che questo diventa veramente complicato, però per non fargli perdere il ritmo si possono fare dei piccoli esercizietti, delle piccoli dettati, delle piccole storie, dei piccoli video che i vostri docenti faranno, non tutti ma chiaramente un gruppo di docenti che è più bravo con l'utilizzo di internet e gli altri si aggregheranno via via con la scelta del materiale, che però sarà un materiale che esula un po' da quello che voi chiamate tra virgolette il programma, perché a questo punto il programma è chiaro che non esiste più, come vi ho sempre ripetuto, qui non si tratta di programma, qui si tratta a questo punto di andare avanti e tentare il più possibile di non perdere l'abitudine alla scuola e di vedere che la scuola è presente e c'è. Questo è solo appunto quello che volevo dirvi, sarete contattati dai vostri rappresentanti di classe, questo è per i genitori questo messaggio, che a loro volta e a loro volte i rappresentanti di classe saranno contattati dai docenti. Tenete sempre in contatto e collegatevi al sito dove ci sono tutti i video che mettiamo, dove ci sono tutte le nostre iniziative, se volete nella home page c'è anche il webinar che oggi ho fatto con lo staff della dirigenza dove discutiamo cosa fare e come farlo. È un video abbastanza tecnico, però chi volesse seguirlo lo può seguire perché chiaramente è pubblico, è online ed è pubblico. Per la secondaria di secondo grado a questo punto di controllare anche il registro elettronico, questo lo dico ai genitori perché alcune professoresse e alcuni professori stanno inserendo degli indirizzi e delle novità per poter gestire qualche ora di lezione, qualche esercizietto fuori dalla classe. Io vi ringrazio, vi auguro tante belle cose, sono sicuro che ce la faremo, come vedete anch'io sono a casa bloccato come voi, ma ce la faremo, tutto finirà presto e noi comunque ci siamo. Il mio indirizzo email l'avete, dirigentechiocciola.edu.it, mi potete scrivere per qualunque dubbio o anche solo per una chiacchierata. Grazie e a presto.